Indubbiamente Cantu ha fatto una gran partita, lo sapevamo, ha una classifica falsa e ha giocato molto bene nel reparto battuta-muro-difesa perché al di là dei turni battuta di Cominetti che abbiamo subito molto, ma più per merito suo che per demerito nostro perché onestamente ha battuto molto bene, hanno difeso tanto e questa è una caratteristica della loro squadra. Dove secondo me noi siamo mancati e dovevamo assolutamente fare di più dal punto di vista dell'aggressività siamo stati poco aggressivi a muro, poco aggressivi su alcune palle in difesa, un po' troppo fallosi su alcune palle facili contro una squadra che gioca così che ti mette questa pressione quando sono in fase di battuta non ti puoi permettere di regalargli 3-4 punti a set facili perché poi subisci anche quando sei in ricezione peccato, peccato perché comunque eravamo lì, non eravamo tanto indietro sarebbe stato più bello portare il tie-break, però ormai è andata così.